Il Bono Cesare è un grandissimo concittadino, un pesarese che in realtà ha vissuto poi professionalmente a Roma in giro per il mondo, è nato ed è poi morto a Pesaro nel 2004, una carriera straordinaria di arredatore e scenografo, arredatore anche al fianco di Fellini, scenografo con i più importanti registi del contemporaneo e del Novecento fino al premio Oscar vinto nel 1988 con L'Ultimo Imperatore, un film che ha fatto la storia del cinema non solo italiano con Bertolucci, con Bertolucci nel 2011 è stata intitolata la piazza proprio qui a fianco di Piazzale Matteotti dedicata appunto a Bruno Cesari a fianco della piazza Lino Micicché fondatore della mostra del nuovo cinema, quindi un legame con la mostra che la vedova Laura Currelli, anche lei donna di cinema, segretaria di edizione di tanti film e di tanti registi, ha pensato di donare definitivamente dopo il dono fatto da Cesari a lei, ora diciamo avanti con l'età ha deciso di anticipare quello che avrebbe potuto essere nei prossimi anni del suo testamento donando questi riconoscimenti che sono appunto l'Oscar ma anche il Davide Donatello, anche il Ciac d'Oro vinti per l'ultimo imperatore così come il Ciac d'Oro per le fatte ignoranti, ha collaborato molto con Ospetec, sia Cesari ma anche la stessa Laura Currelli e anche la nomination per il talento di Mr. Ripley, altri riconoscimenti e documenti che saranno anche importanti per l'archivio della mostra del cinema che è stato riconosciuto dal MIBAC proprio l'anno scorso come archivio di interesse nazionale, diciamo lo confermiamo anche con questa donazione. Un momento molto emozionante, voglio ringraziare davvero la moglie di Bruno Cesari per questo grandissimo dono che fa la città, lo esporremo l'Oscar insieme al Davide Donatello e gli altri premi, li esporremo al Teatro Sperimentale che è un luogo storico per la nostra città ma è un luogo anche simbolo del cinema italiano perché lì è nata la mostra del cinema e non è un caso che Bruno Cesari abbia deciso, Bruno Cesari sia stato intitolato a una piazza qualche anno fa e credo che questo sia pesato anche nella decisione della moglie di fare questa donazione a Pesaro. Siamo davvero molto orgogliosi, Pesaro è una città fortemente legata al cinema, avere l'Oscar, i premi principali di uno dei più grandi sceneggiatori italiani, scenografi italiani scusate, è davvero un onore, una grandissima responsabilità e quindi cercheremo di valorizzarla al meglio e far sì che possa diventare anche un momento di memoria e di ricordo di questo grande artista.